Il quarto tentativo è quello buono per la team Altamura. Dopo tre pari di fila, gli uomini di Giacomaro sfato nel tabù 2024, superando 2-0 il per nulla rendevole rotonda. Solita intensità e solito gioco d'alto grido dei Murgiani, che nel giorno in cui i bomber lo iodice si prende una pausa dal gol, ritrova le firme dei centrocampisti con grande dipinto. Sente il fiato sul collo del Nardò, la formazione bianco-rossa. Contro i Lucani non c'è spazio per un nuovo passo falso. Saraniti guida l'attacco, con lo iodice l'ha ritrovato Carmù dalle sue spalle. Da terzino, nuova opportunità per il 2004 ex-Rome Matera-Pellegrini. C'è Petta, ma solo in panchina. Centrali, Mattere e Bertolo. Quattro punti in sette giornate e una classifica che comincia a farsi preoccupante. Le ottime prestazioni non bastano più alla rotonda di Peppe Pagana. Cardore e Fernandez pronti ad armare Ankovic nel 4-3-3. Cagliazzo leggermente più arretrato. Dirompente l'avvio della team Altamura. Grande scucchiaia per Maccioni, che alza troppo la parabola da posizione invitante. Era tuttavia in offside. Soluzione probabilmente provata e riprovata in allenamento. Passano due minuti e l'azione si ripete in fotocopia. Questa volta è lo iodice illuminare. Grande segue il movimento, raccoglie e batte Sacco per l'1-0 team Altamura. In grana attorno alla mezz'ora in rotonda. Cagliazzo brucia Carmudo e crossa. Ankovic a domestica in aria e appoggia per Cardore stoppato da Fernandez. Sempre fenomenale tra i pali. Al 42esimo, Marchetti ingenuo col passaggio orizzontale. Maccioni ruba palla, corre veloce e apre per lo iodice. Frenato solo dal palo a sacco battuto. Sempre Altamura, sempre lo iodice. Punizione al velino, corretta in rete da Carmudo, ma in posizione di fuorigioco. Dal replay, difficile sciogliere i dubbi. Si resta 1-0. Rotonda pericolosissimo nel recupero. Tim Boneri, quasi in scorpione, manda alto la gran torre del compagno. Si chiude così un bel primo tempo. Ragazzi di Peppe Pagana, intraprendenti anche dopo il rientro dagli spogliatoi. Ankovic segue la verticale, evita mattera, ma da posizione defilata trova solo l'esterno della rete. Molto pericoloso e rotonda quando Confusco viene fuori dalla confusione. Il terzino, calcio a botta sicura, ma è murato alla grandissima Advertolo con un intervento che vale un gol. Brividi puri per il dungeon al 66esimo. Pulizione di Cardone dei 30 metri. Palla che rimbalza davanti a Fernandez. Bravo e fortunato nel mettere in corner. Prova venire fuori dalle inattese difficoltà alla team Altamura. Lo Iodice scappa in solitaria, ma il diagonale si perde sul fondo. Al 77esimo il punto esclamativo è firmato Nicola Di Pinto. Aggancio e calcio dal limite. Sacco così e così e palla nell'angolino per il 2-0 Murgiano. In rotonda molla la presa e i biancorossi si divertono. Lo Iodice danza e innesca il subentrato Chietti. Il cross sporcato viene smanacciato alla grandissima da Sacco prima che l'attanzio, non si sa come, centri il palo da pochi passi. Niente tris, ma ecco i tre punti. La team Altamura si rimette in carreggiata, mantenendo il variato e il vantaggio di 2-5 punti sulle inseguitrici Nardua e Martina. Il rotonda coglie la quarta sconfitta consecutiva, ma sorride in virtù dei risultati delle altre contendenti, rimanendo fuori dalla zona play-out. Nel prossimo turno, spazzo assentitissimo derby della Murgia-Gravina-Timo Altamura e Rotonda-Fasano.